Allora, oggi riprendiamo il discorso sulle successive serie funzioni, sarà un discorso ovviamente che non potremmo approfondire anche qui troppo, date l'immigrazione di tempo, però, se vi ricordate, noi sullo spazio delle funzioni C0 su un intervallo, abbiamo messo la norma infinito, ricordo che questo qui abbiamo dimostrato che è uno spazio medico completo. Allora, vi ricordo che cosa sia la norma infinito di una funzione F uguale al massimo per X appartenente ad AB di A più X, ok? Poi abbiamo visto che F con N converge a F in norma infinito, se è solo se per definizione il limite della norma infinito di F con N meno F è uguale a 0, se è solo se per ogni X maggiore di 0 esiste un indice limitare che se N è maggiore o uguale di 1, allora, Fn di X meno F di X è minore di X però non di X di AB, ok? Che è la convergenza uniforme. Allora, vi ricordo che abbiamo pure questa convergenza uniforme ci è utile perché se noi abbiamo una successione di funzioni continue e convergenza uniforme sappiamo che il limite è punibile. Questa era una cosa che era già stata... Poi abbiamo pure dimostrato che il limite era integrabile, se le funzioni di partenza sono integrabili e convergono uniformemente, quindi stiamo in una fase un po' più ampia, il limite ancora era integrabile e valeva il risultato che l'integrale del limite è uguale al limite dell'integrale. Anche quello era un'unità. Oh, qui ci sta una piccola questione. Io mi atterrò quasi sempre, avremo funzioni continue, quindi se stiamo sull'intervallo più un solo norma infinito si, diciamo, definisce così. Cosa succede se l'insieme non è chiuso? Per esempio, supponiamo che io abbia c0 di e, no? La norma infinito. Allora, chi era un po' pure? Vabbè, io in questo caso la norma infinita. La norma infinita non è il massimo, ma è l'estremo superiore per x appartenente ad e di f. Questa è l'unica cosa che cambia. Non sto a fare le dimostrazioni, l'unico problema è che non c'è il massimo e quindi dobbiamo ricordare l'estremo superiore. Non c'è, può non esserci il massimo. Ok? Ovviamente, qua bisogna anche che f sia limitata. Che, per esempio, supponiamo di avere una funzione 1 su x. Questa è c0 sull'intervallo 0 più infinito, per esempio. Però se andiamo a fare l'estremo superiore viene più infinito. E allora una norma non può fare più infinito. Quindi in quel caso dobbiamo, vedete, la cosa si complica leggermente, invece del massimo dobbiamo prendere l'estremo superiore, dobbiamo supporre che questo estremo superiore sia finito, ma sono tutti dettagli tecnici. Quindi noi 99% ci mettiamo su intervalli chiusi, così evitiamo la situazione. Però non è che non si può fare, si può fare benissimo. Anche qui rimane una norma, lo spazio numerico rimane completo, funziona. Ok? O O Allora, andiamo a vedere alcune... Vediamo fatti questi richiami? Andiamo a vedere Alcune cose Allora, prima andiamo a vedere un controesempio. Allora, prendiamo questo controesempio qui. Poi vediamo di che cosa è controesempio. Allora, prendiamo l'esempio. Prendiamo questa successione di funzioni. Allora, io ho sull'intervallo meno 1, 1 ho la funzione valore assurdo di x. Ok? Questa è la funzione valore assurdo di x. La vogliamo approssimare con una funzione che chiamiamo f con n. f con n come è fatta? Fino a fuori dell'intervallo meno 1 su n 1 su n deve coincidere con la funzione valore assurdo. Qua dentro, invece, vogliamo smussare vedete che c'è questo punto angoloso? Lo vogliamo smussare. Come facciamo a smussarlo? Colleghiamo questi due punti del grafico con un archetto di varia. Ok? Quindi, come sarà definita f con n di x? f con n di x sarà definita valore assurdo di x se il valore assurdo di x è maggiore o uguale 1 su n e meno o uguale 1. Ok? e sarà a con n x quadro più b con n se il valore assurdo di x è compreso tra 0 e 1 su n. Quindi, vedete che qua si comporta come una parabola. Perché non c'è il termine con la x? È chiaro perché questa è simmetrica rispetto il grafico deve essere simmetrico e quindi deve essere la funzione deve essere pari il termine con la x non c'è. Però qui abbiamo una una certa scelta possiamo scegliere sia con n che b con n. Allora, come li scegliamo a con n e b con n? Li scegliamo in questo modo. Noi vogliamo, per esempio, che f n più 1 su n deve fare 1 su n perché? Perché a destra fa 1 su n ma anche a sinistra deve fare 1 su n quindi vedete, qua c'è una definizione che io in un caso ho dato doppia se x è uguale a 1 su n qui c'è 1 su n e anche qua vedete, ci ho messo uguale perché? Perché voglio che la funzione sia continua quindi i due valori coincidano. Quindi andando a scrivere a n fratto n quadro più b con n perché sostituisco 1 su n al posto di x abbiamo queste equazioni però in effetti qui di incognite ce ne sono due quindi io posso imporre un'ulteriore condizione per ricavare a con n e b con n e quale condizione voglio imporre? La condizione che voglio imporre è che questa smussatura non so come se il termine è corretto in italiano sia anche di classe diciamo la funzione f con n sia anche di classe c con 1 ma per essere dichiata di classe c con 1 che cosa bisogna fare? Bisogna fare la derivata di f con n nel punto 1 su n cioè è chiaro che fuori di se non stiamo in questo punto qui la funzione è c con 1 per quale motivo? qua il grafico è una retta qua il grafico è una retta quindi qua la derivata vale 1 qua la derivata vale meno 1 qua la derivata quanto vale? f'n lo scrivo qua sotto questo vale deve valere meno 1 se x è compreso tra meno 1 e meno 1 su n poi deve valere 2 a con n x se x è compreso tra meno 1 su n e 1 su n e poi deve valere 1 se x è più grande di 1 su n è più più come vedete anche qui i valori a meno 1 su n e a 1 su n le ho considerate tutte e due queste qua in realtà quando considero queste derivate definite così o definite così nel punto 1 su n per esempio dall'altra parte è tutto la stessa cosa perché la funzione è pari in realtà noi per verificare che la funzione sia derivabile nel punto 1 su n ci basta verificare che queste derivate qui nel punto 1 su n questi valori qua siano uguali perché in realtà quei valori non sono la derivata a priori perché la funzione potrebbe avere un punto angoloso ma non essere derivato però che cosa succede che questo corrisponde alla derivata sinistra e questo qua corrisponderà alla derivata destra sempre valutato in uno su n se sono uguali che succede che la derivata sinistra e la derivata destra coincidono e quindi la funzione è anche derivabile quindi qual è la condizione da imporre la condizione da imporre è che 2 a con n per uno su n deve essere uguale a 1 quindi a con n è uguale a n mezzi ma allora andando a sostituire qua quanto mi viene sia con n uguale a n mezzi qua mi viene 1 su 2n più p con n che deve fare 1 su n beh allora è facile perché io porto questo dall'altra parte faccio la sottrazione e trovo che p con n deve fare 1 su 2n quindi ripeto se io metto se io metto qua n mezzi e 1 su 2n o qua ci metto 2 a con n che vale n vedete che tutto funziona perché allora la funzione vale valore assoluto di x fuori dell'intervallo meno 1 su n 1 su n vale la parabola all'interno dell'intervallo meno 1 su n e 1 su n se ci metto x uguale a 1 su n qua quanto mi viene 1 su 2n più 1 su 2n che fa 1 su n e o prendo questa definizione o prendo questa definizione funziona lo stesso se ci metto meno 1 su n è la stessa cosa perché qua quando leggo al quadrato meno 1 su n il segno sparisce quindi viene 1 su n il parolo assoluto di meno 1 su n qui fa 1 su n quindi le cose funzionano sia nel punto meno 1 su n sia nel punto 1 su n andiamo a vedere le derivate le derivate qua vale meno 1 qua vale 1 e nel punto 1 su n questa nx quanto vale? nel punto 1 su n vale 1 e nel punto meno 1 su n vale meno 1 come vedete anche qui le tre definizioni si accordano perfettamente nei punti dove la definizione cambia dove c'è il salto da una definizione all'altra questo che cosa mi dice mi dice che questa successione di funzioni f con n di che classe è? secondo voi? perché abbiamo fatto tutta questa pratica è c1 ah benissimo perché questa qui è c1 nell'intervallo meno 1 potremmo farla pure sull'intervallo meno a non è importante il fatto che qui gli estremi siano meno 1 e 1 potevo prendere meno 2 e 2 meno 3 e 3 ok? ora a chi converge questa successione di funzioni? cominciamo a vedere la convergenza puntuale quando n prende l'infinito che succede? questo intervallo si riduce quindi se io mi metto in un punto x e cominciamo a vedere un punto x diverso da 0 da un certo n in poi che succederà? che la successione coinciderà col valore assoluto quindi a chi commette? a valore assoluto e nel punto 0 nel punto 0 è facile perché vale sempre 1 su 2n 1 su 2n prende il tende in pieno tende a 0 il valore assoluto di 0 fa 0 quindi questa tende al valore assoluto puntualmente però io dico fn di x meno valore assoluto di x questa è f di x beh possiamo dire che questo è maggiore o uguale a 0 perché vedete la nostra funzione f con n quando abbiamo smussato abbiamo smussato in maniera tale che qui e qui la parabola avesse la stessa tangente che è quel 2n ma è chiaro se non vi fate l'esercizio di analisi 1 che il grafico della parabola qui sta al di sopra di quello del 2n quindi quando vado a fare la differenza questa differenza è maggiore o uguale a 0 ok ma è minore o uguale di quanto se voi andate a fare la differenza tra f con n ed x per esempio a destra dov'è il massimo della differenza secondo voi dov'è che questi due grafici in? ah in 0 e in 0 allora il valore assurdo vale 0 la funzione vale 1 su 2n dall'altra parte essendo una funzione pari funziona lo stesso quindi questa differenza è minore o uguale e compresa tra 0 e 1 su 2n questo è un piccolo esercizio di analisi 1 quello che lo fate lo fate tra 0 e 1 su n e poi che simmetrica vale dall'altra parte se non volete fare l'esercizio potete anche dire volete ottenere una stima più più rosa la funzione la la parabola vale al massimo 1 su n questa altra vale al massimo 1 su n stimate la differenza con la somma dei moturi e ottenete invece di ottenere 1 su 2n e ottene 2 su n comunque è una cosa che tende quando n tende infinito a quando tende questa cosa? a 0 e se ci metto in valore assoluto cambia qualcosa questo era già positivo quindi valore assoluto ce lo posso mettere o non mettere tanto non cambia nulla quindi se io vado a fare ma questo era vero dove era vero? solo sull'intervallo meno 1 su n 1 su n era vero dappertutto perché fuori di un intervallo questa differenza addirittura vale 0 quindi se io vado a fare la norma infinita di fm di x meno x sull'intervallo meno 1 1 questa norma infinita quanto vale? vale esattamente 1 su 2n perché il massimo della differenza si otteneva in 0 e tende a 0 che vuol dire che la convergenza era anche uniforme quindi cosa abbiamo trovato? questa qua ci posso scrivere che ci converge in norma infinita cioè che ci converge uniforme uniforme se ci sono continui abbiamo la convergenza uniforme il limite è continuo quale funzioni sono? c1 il limite è uniforme il limite è c1? no quindi attenzione se vi ricordate vi ho detto che la convergenza puntuale non conserva nulla in generale cioè poi potete avere funzioni continue e il limite non è continuo potete avere funzioni integrate il limite non è integrabile potete avere funzioni integrabili è continuo e il limite è integrabile e è continuo ma il limite è integrabile non è uguale l'integrale del limite ci vogliono delle cose sia aggiuntive però se avete le funzioni continue e il limite è uniforme il limite è continuo ma se avete le funzioni c1 e il limite è uniforme non è detto che il limite sia c1 in questo caso dimostra che allora se volessimo il limite c1 questo non dimostra nulla ma giusto per farvi capire cosa si dovrebbe fare ok se volessimo il limite c1 allora dovremmo fare una funzione c1 di a b supponiamo che f sia c1 di a b allora potremmo andare a definire un'altra norma che non si chiama infinito e basta si chiamerebbe 1 infinito chi è questa norma? questa norma è il massimo per x appartenente ad a b di f di x più più il massimo e x appartenente ad a b di f' di x cioè sarebbe questa è la norma infinito di f e questa è la norma infinito di f' ok allora si potrebbe dimostrare il seguente teorema se f con n sono in c1 di a b e f con n converso a f in norma 1 infinito cioè cosa significa? significa che deve rendere a 0 cioè deve convergere uniformemente la successione delle f con n e la successione delle derivate allora anzi questo mi sa che lo dimostriamo non in questa forma ma in una forma leggermente diversa allora f è di classe c1 quindi se vogliamo conservare la proprietà di essere in c1 non ci basta sulla successione che converga uniformemente la successione quando scrivo così devono convergere uniformemente allora per scriverlo in questa forma che sarebbe la forma più pulita più precisa e tutto devo dimostrare prima che questa è una norma poi che se questa norma se questo tende a questo in norma vuol dire che f con n tende a f uniformemente f primo n tende a uniformemente a f primo sono tutti esercizi banali ma fanno perdere tende a me allora noi non lo dimostriamo in questo modo lo dimostriamo lo scriviamo in un modo leggermente diverso ma sostanzialmente è la stessa cosa allora dimostriamo il seguente teorema noi sappiamo che f con n è in c1 poi sappiamo che f con n converge f puntualmente in a b poi sappiamo che f primo n converge f uniformemente uniformemente scusate converge a fi uniformemente volevo dire per primo ma possiamo supporere che converga a fi in a b ok quindi noi abbiamo questa direzione abbiamo successione di funzione c le derivate convergono uniformemente a fi la successione di funzioni converge puntualmente quindi neanche uniformemente come ipotesi a f qual è la tesi f è di classe c1 su a b f primo di x uguale a fi di x questo risultato prima perché te lo dimostriamo praticamente è la stessa cosa che sta scritta qua solo in una forma diversa però questo lo possiamo dimostrare perché non dobbiamo fare quegli esercizi che fanno perdere tempo questo risultato è un teorema che si chiama teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata nel momento in cui vale la convergenza uniforme vale anche quella puntuale quindi tu che cosa c'hai? c'hai della successione tu avrai anche f n primo di x tende a fi di x fi di x quindi chi è? è il limite delle deli vali ma il limite delle derivate è uguale alla derivata del limite perciò si chiama teorema di passaggio al limite sotto il segno derivato ok? quindi teorema di passaggio al limite sotto il segno dei derivati allora sempre prima della dimostrazione la dimostrazione sono tre righe schematizziamo se vi ricordate io ho una convergenza che è quella puntuale che non conserva quasi nulla molto spesso non conserva nulla la convergenza uniforme conserva certe proprietà per esempio la convergenza uniforme mi fa passare la limite sotto il segno integrato però se vi ricordate abbiamo pure detto che quella come ipotesi era pure troppo non ci serviva ci serviva che non bastava la convergenza puntuale per passare sotto il segno di integrare il limite sotto il segno di integrare ma ci vorrebbe una convergenza che poi abbiamo detto che si chiama dominata e abbiamo scritto cosa volesse dire quindi la convergenza uniforme è troppo è pure troppo se vogliamo passare la limite sotto il segno di integrare si può indebolire un po' però non si può togliere completamente qualche ipotesi se lasciamo solo la convergenza puntuale non funziona più però qua invece se vogliamo passare la limite sotto il segno di derivata vedete non basta ci vuole la convergenza uniforme delle derivarie più la convergenza puntuale alla successione di partenza questo è una falsa attenuazione delle ipotesi in realtà questa converge uniformemente questa converge puntualmente questa qua converge pure uniformemente però siccome non serve a priori uno nuovo stile però in realtà qua quello che vi serve quello che c'è in realtà converge uniformemente questo e questo converge uniformemente questo andiamo quindi a fare la dimostrazione allora noi cosa possiamo scrivere? possiamo scrivere fn di x meno fn di a questo è uguale all'integrale tra a e x di f'n di t come si chiamano questo? che l'emma è fondamentale del capo l'integrale la f è c1 e allora fn c1 e allora se lo scrivere c1 è chiaro? è banale adesso facciamo tendere a n a infinito allora questo a chi tende? tende a f di x meno fn a f di x meno f di a perché? perché la fm commeggia f punto a meno fn di x tende a f di x fn di a tende a f di a e questa chi tende? tende all'integrale allora queste sono funzioni continue queste funzioni continue commengono a fi su tutto a b ax è un intervallo più piccolo di a b ci avete a b ax è contenuto in a b quindi se commette un uniforme su tutto a b ovviamente commette un uniforme anche su un intervallo più piccolo quindi applicato il termine di massaggio a limite sotto il segno integrale qualcosa mi viene integrato il finito di t è la scuola il finito di t quindi siccome erano uguali in partenza i limiti il limite fatto a sinistra deve essere anche uguale al limite fatto a testa quindi sono uguali anche in a b e allora questo che cosa vuol dire? vuol dire sempre vuol dire che pare questo guagliante che f di x meno f di a è l'integrale di questa funzione contra x di questa funzione nulla ma l'integrale di una funzione continua è una funzione sempre il problema diciamo fondamentale è il calco integrale adesso se io vado a fare f primo di x come si fa? f primo di x f primo di x è uguale a f di a più questo f di a nella costanza di ovo a 0 la derivata dell'integrale viene f di x perché f è una funzione continua e l'abbiamo dimostrato nell'altra implicazione del terreno fondamentale del calco integrale quindi questo mi dice che f primo di x è uguale a fi di x è termine quindi tutto questo amparadamo tutto questo discorso a che cosa è servito? è servito a dire che guardate che su uno stesso spazio di norme ce ne stanno a IOSA bisogna scegliere la norma che ci serve per fare per esempio prendiamo lo spazio delle funzioni C1 ovviamente se io prendo lo spazio delle funzioni continue questa norma qua la norma 1 infinito non ce la posso mettere perché la derivata magari non c'è però se prendo lo spazio C1 che è più piccolo se la funzione è C1 ci posso mettere la norma infinito ma anche la norma 1 infinito cioè posso aggiungere alla norma della funzione anche la norma infinito della derivata e diventa una norma diversa è una norma ovviamente più la norma vabbè qua dovrei entrare in un discorso un po' più complicato insomma più aggiungo pezzi quindi se c'è una norma della derivata prima se ci mettessi anche una norma della derivata seconda poi lo posso in G2 e così più posso garantire proprietà se vi ricordate in voglio completare un attimo questo discorso perché voglio che sia chiaro il rapporto tra le cose prendiamo una funzione integrabile soltanto su AB ok qua posso mettere per esempio la norma L2 chi era la norma L2 invece della norma infinita questa qua l'abbiamo pure vista l'abbiamo accennata se vi ricordate come si fa f uguale di x di x alla mezza questa qui ha una norma lo era sullo spazio delle funzioni continue lo era anche su questo spazio le funzioni di R a B sono anche limitate quindi anche f quadro è limitata ed è integrabile secondo quindi questa norma è definita perché non ci andava bene questa norma questa norma allora se io faccio poi c'era anche la norma L1 la norma L1 chi è? è l'integrata tra A e B di R di x in modo di x poi ce ne stanno anche A allora questa qua è una norma per cosci spazio questa qua è una norma fatta l'esercizio direttamente perché la proprietà triangolare il valore assoluto insomma porti fai il valore assoluto di f più g dentro fai l'integrata il valore assoluto di f più g meno uguale il valore assoluto di f più g e la proprietà triangolare viene le altre due proprietà sono oltre queste norme cosa c'avevano che non ci piaceva? per esempio hanno delle cose che ci piacciono supponiamo che f con n converge a f allora f n in a b in f di a b supponiamo che converga f puntualmente scusate supponiamo che f sia in a b e supponiamo che f con n converga f in norma L1 che vuol dire questo che vuol dire per definizione vuol dire che l'integrale tra i p di f con n meno f a chi deve rendere? deve rendere a 0 no? cioè la norma della differenza in questo integrale è qua deve rendere a 0 ma questo è più grande dell'integrale se valo solo lo metto fuori che però è più grande di 0 quindi questo tende a 0 questo vale 0 per intornare a due gradini e anche questo tende a quindi questo mi implica che mi implica che l'integrale per a e b di f con n di x in dx tende all'integrale di f di x in dx che cos'è? non è il passaggio al limite sotto il segno di integrale allora f con n commeggia f in L1 l'integrale del limite è uguale l'integrale ora cosa ma allora perché non è utilizzato l'anorme L1 è pur più facile è c'è un piccolo problema qui ho dovuto supporre che il limite fosse integrabile prima in generale non lo è integrabile secondo Riemann cioè Riemann con questa norma o con questa norma non è completo lui fa una cosa che noi sappiamo è che c0 con la norma infinita è completo c1 con la norma infinita più la norma infinita della derivata pure è completo quello si potrebbe che il terreno che abbiamo visto prima però qua di completezza non sappiamo nulla allora il problema è che la completezza rispetto a queste norma è un problema più delicato quindi non siamo non possiamo far tutto a primare ci sarà più qualcosa prima c'è pure qualcosa al secondo anno al terzo anno magari quelli di civile questo discorso non lo vedranno però quelli di informati del TLC ci stanno per fare la completezza rispetto a questa norma non va bene lo spazio delle funzioni continue perché vi ricordate l'esempio al cotangente di nx converge alla funzione segno la funzione segno non è così qui ci vuole uno spazio più grande quindi quella volta dobbiamo andare verso spazio più grande allora più grande in C0 non c'è un solo E rimane di AB e manco è completo allora qual è il discorso che dovremmo andare a studiare un altro integrale che si chiama integrale di Lebeck e allora diventa 1 capito? le funzioni sommabili rispetto all'integrale di Lebeck con la norma L1 sono spazio concreto però significa perdere 2 mesi perché? prima di tutto devi definire integrale di Lebeck e non è una pazienza ci bisogna per precedere poi bisogna andare a vedere per esempio qua convergenza L1 implica la convergenza puntuale? no una funzione una successione può convergere L1 senza convergere puntuale però le cose si cominciano a complicare allora noi tutta questa complicazione per ora la lasciamo fuori dalla porta non la vogliamo vedere però lo schema è sempre quello tu per esempio vuoi applicare il terreno alle contrazioni da qualche parte ti devi procurare uno spazio medico completo e una contrazione se non c'hai quello non puoi applicare il terreno alle contrazioni quindi come vedete ci sono dei principi cardine delle osservazioni cardine e poi però si tratta di sviluppare noi abbiamo potuto fare un paio di elemi piuttosto semplici sulla convergenza uniforme sulla convergenza diciamo il terreno di passaggio al limite sotto il segno integrale alla convergenza uniforme e con il passaggio al limite sotto il segno della derivata quando abbiamo convergenza uniforme della successione delle derivate questa è la faccia che da fare e questa abbiamo qua però ci sono altre norme per la convergenza per il terreno di passaggio al limite sotto il segno integrale basta la norma L1 anche la norma L2 va bene osservate se siamo su un intervallo limitante dico solo questo e poi facciamo una piccola parte a a questa qui prendele queste, supponiamo che tutte le funzioni siano continue, in realtà basta integrarli, affinché voi non mi facciate problemi, dico che sono continue, allora io dico che questo è il numero uguale, allora questo qua, prendiamo al quadrato, io dico che questo qua è il numero uguale dell'integrale tra e p di fn di x meno f di x quadro in dx per i meno a, perché? vi ricordate che l'integrale di fg, vi ricordate cosci spazzo? Cosa dice cosci spazzo? Applicato all'integrale, che l'integrale di f di x per f di x, non metto fg perché la f sta già impegnata, questo è il prodotto scalato delle due funzioni, questo deve essere minore uguale della norma della prima funzione e della norma della seconda, quindi deve essere minore uguale di f di f di x, quindi x per l'integrale, allora chi sono le due funzioni? Questa è la funzione fi e chi è la funzione psi? Prendo uno, allora questo integrale, il quadrato ce l'ho messo per non scrivere la radice quadro, e se l'avevo tutto al quadrato, qua mi viene levato al quadrato e qui la radice e la radice scomparono, a destra che mi viene? Qua devo fare l'integrale di f uguale di f uguale, questo meno questo al quadrato, qua devo fare l'integrale 3b di psi quadro, ma psi è quanto valeva? Uno, psi quadro quanto vale? Uno, l'integrale 3b quanto fa? Pi no, cosa segue? Segue che se questo tende a zero, se questa integrale tende a zero, cioè se la norma L2 di fn meno f tende a zero, norma L2 di fn meno f tende a zero, significa che tende a zero non questa integrale, ma la radice di questa integrale, ma pure questa integrale tende a zero, se la radice di A con M tende a zero, la con M tende a zero, quindi questo tende a zero, cosa tende a zero? Tende a zero pure questo, e anche se il cittadino il quadrato tende pure a zero, quindi su un intervallo limitato, su un intervallo, su un insieme limitato, su R non male, su R non male perché il p meno a diventa infinito, ma su un intervallo, quindi su un insieme limitato, se la norma, se F con M tende a f in L2, ci tende pure in L1, quindi come dire, la norma L2 è meglio di quella L1, meglio, cosa significa meglio? In questo caso significa che se ci tende in L2, ci tende anche in L1, quella uniforme è meglio di questa, cioè se ci convergge uniformemente ci convergge anche in L2, anche in L1, siamo sempre su un intervallo, chiaro? Tuttavia, meglio per quanto riguarda la convergenza, cioè è un'ipotesi più forte, cioè se F con M convergge F uniformemente è un'ipotesi più forte che F con M convergge F in L2, che è un'ipotesi più forte che F con M convergge F in L1, certe volte c'è la convergenza L2 e mi devo arrangere con quello, certe volte c'è la convergenza L1 e mi devo arrangere con quello, chiaro? Però poi ci sono i problemi tecnici, però effettivamente qua, in convergenza L1, se io ho identificato il limite e so che il limite è integrale, è sottissime integrale, ci passo benissimo, non ci vuole niente, è una linea, quindi la convergenza L1 basta, che pure è molto meno la convergenza uniforme, basta e avanza per passare al limite sottissime integrale. Per ottenere invece che il limite è continuo, ci vuole la convergenza uniforme in generale, per ottenere che il limite C1 ci vuole la convergenza uniforme della successione delle derivate in generale. Quindi per passare al limite sottissime di derivate. Quindi come vedete è un argomento, diciamo, che si articola molto, però lo schema è un argomento, diciamo, 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 va bene.